Allora amore, che ne dici di rispondere alla domanda di Danieli Doesn't Matter? Ah va benissimo Allora Vediamo vediamo Allora Perché in spiaggia le donne Amore Perché in spiaggia le donne non hanno timore di farsi vedere Sto pazzo di telefono Dai sai Di farsi vedere in costume da milioni di ragazzi Mentre invece si hanno vergogna a farsi vedere il proprio ragazzo Ma qual è intimo? Amore scusa la domanda Allora Daniele Questa è la nostra risposta Un bacione alla mamma California E al prossimo video porno Questa è la nostra risposta